Alla presentazione del libro La Giovane Italia, scritto dal giornalista Sky Paolo Ghisoni insieme ad altri colleghi, svoltasi a Castro Libero o Centrale Porte di Cosenza, ha preso parte anche Luca Garritano, giocatore del Cesena, originario proprio di Cosenza. Il libro parla dei migliori calciatori under 19 presenti in Italia e lo stesso Garritano non può che essere un esempio di giovane che è riuscito a imporsi nel calcio professionistico. Di sicuro noi in Italia abbiamo tanti ragazzi giovani bravi che si fanno valere e credo che sia fondamentale per una ricrescita del nostro paese, della nostra nazionale, puntare su di loro, che sono il nostro futuro. Si è spesso parlato della possibilità di concedere alle squadre di Serie A di allestire una seconda squadra che possa militarne i campionati inferiori per dare maggiore spazio ai giovani. All'estero questa norma esiste già, in Italia ancora no. Potrebbe essere una soluzione giusta anche per non perdere tantissimi ragazzi che girano in queste squadre magari di categorie inferiori. Potrebbe essere una soluzione comunque carina e giusta. Per quanto concerne invece la stagione appena trascorsa, quella del giocatore del Cesena può considerarsi positiva. Sono soddisfatto per come si era messa da gennaio in poi, comunque abbiamo fatto una grandissima risalita e ci siamo riusciti a salvare con due giornate d'anticipo. Quindi è stata una stagione che mi ha fatto crescere e sono abbastanza contento.